Chi volesse vedere contenuti inediti inerenti al podcast può trovarli sul nostro profilo Instagram OneMoreTimePodcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in descrizione. Io sono Luca e questo è OneMoreTime. Io tecnicamente ero incapace. I miei compagni di squadra della nazionale hanno iniziato a giocare grossomodo in turno ai 12 anni. Io ho arrivato a 16 anni, lungo lungo, magro magro e non sapevo fare veramente nulla. C'è una frase che in qualche modo è un po' mitica ed è legata ad Alexander Schiba. Lui era la natura della nazionale Juniors e ricordo che io feci veramente un paio di stupidate ed è un eufemismo ciclopiche, schiantando palloni contro il soffitto, facendo errori di quelli che si metterebbe a ridere un ragazzino e tanti anni dopo Schiba mi disse ma tu lo sai perché ti ho tenuto nonostante quelle robe che non si potevano guardare? Perché ti sono venute le guance rosse. E ho capito che tu ci tenei via a giocare a par lavoro perché chi si vergogna si impegna. Ciao Andrea. Allora, intanto, quando ho letto la tua storia ho letto che tu da piccolo, ma poi me lo racconti tu perché ovviamente è un po' come una favola, no? Partiamo dall'inizio. Avevi imbarazzo per la tua altezza. Io invece la invidio un sacco. Per me l'ideale, c'è il mio mito, abitavo a Parigi, sono del 76, e quindi era il basket in assoluto, lo sport. Cioè, diciamo che c'erano due grandi cose. C'era Michael Jordan, quindi riuscire a schiacciare, e c'era Jean-Claude Van Damme, quindi riuscire a fare la spaccata come lui. Erano un po' i due miti della mia infanzia. Aveva lui 1,98, tu 2,01. Molto di più. Sei più di 2,01? Molto di più. Cioè? Nessuno sa la mia altezza con precisione. Ho mentito spudratamente. Io sono molto più alto di quanto è scritto. Perché sono privo del complesso dell'altezza. Però è pazzesco. Cioè, secondo me, è veramente l'altezza, mezza bellezza sul serio. Io quando l'ho visto... Dipende quanto. Dipende quanto. Ora c'è una storia divertente. Un mio compagno, quando ero ragazzo giovane ancora, Enrico Berengand di Padova, quindi entrambi veneti, una volta mi spiegò qual è il motivo per cui essere alto è una mezza bellezza, ma dipende quanto. Ok. Se andiamo in discoteca, io e te, entro io, un metro e un novanta, dico, che bel toso. Se entri te, due metri e passa, e che pingolone. E quindi c'è un'altezza oltre il quale non è mezza bellezza. È un po' troppo. Però quando eri con i tuoi compagni di squadra, invece lì più o meno era più uniforme, erano alti. Ma la pallavolo è quella che ha servito. La pallavolo ha servito soprattutto a quello. Quindi lì non era un handicap, ma un grande vantaggio. Ma anche quando andavi in giro in discoteca banalmente, non so se ci andavate, ma con loro, nel senso vi guardavano come gli Avengers. Allora, c'è una buona scusa quando giochi a pallavolo per dire è vero che sono alto, ma gioco a pallavolo, c'è un utilizzo. Se no, l'altezza da sola può diventare un limite, però non è stato. Andavo in discoteca poche volte, mi vergognavo, nessuno ballava con me e via dicendo tutte queste cose che avvengono più o meno sempre. E l'altezza ha trasformato da un giorno all'altro la mia peggior nemica, l'altezza, in una alleata straordinaria. E questo è venuto così, di colpo, da un giorno all'altro, casualmente, incontrando la pallavolo anche lì casualmente. Però l'idea di poter dire a chi mi dice ma che tempo fa lassù? Ma quanto sei alto? Ma quanto sito alto? Queste cose qua che mi imbarazzavano. Sì, è vero che sono alto, ma gioco a pallavolo, che non è una grande risposta di per sé, però intanto aiuta perché è un po' di sicurezza. Poi l'adolescenza è quel momento in cui ho il naso troppo lungo, le orecchie troppo grandi, ho troppo alto, ho troppo basso, qualcosa che non funziona. E per me la pallavolo fu questa casa che mi ha accolto, che mi ha tranquillizzato. Che ha reso tutto normale. Non solo, non solo, l'ha reso un grande valore. Nella pallavolo essere alti è un grande vantaggio. Adesso facciamo un grande passo indietro perché la pallavolo avviene non proprio subito. Infatti, me lo racconti dopo e mi ha stupito questa cosa perché io ero convinto che per cominciare una carriera agonistica in generale, poi non lo sai a 16 anni quando cominci se vuoi fare quello, però bisognerà cominciare molto tempo prima. Però ci arriviamo dopo. Partiamo dall'inizio. Quando nasci? E dove soprattutto? 29 luglio, 65, annuale che è un piccolo paese vicino a Venezia perché i miei in quel periodo abitavano a Chirignago, altro piccolo sobborgo di Mestre. Figlio unico? Figlio unico, papà Albino e mamma Diana. Albino di nome? Albino Zorzi. Lui era emigrato in Australia negli anni 50 come tanti altri veneti e non solo con questi accordi tra Italia e Australia un viaggio mitico che... Per il lavoro? Sì, aveva 20 anni in Italia c'era lavoro lui nella sua famiglia un po' più numerosa stava bene ma era un po' considerato la pecora nera e quindi colse questa occasione e il viaggio mitico di mio padre che molte volte avevo raccontato era allora si parte domani arriva il telegramma si parte da Genova da Torreselle a Genova era un viaggio della speranza e quindi tutti quanti prima in bicicletta poi in treno a Padova poi in treno a Genova arrivati a Genova fa scusate ci siamo sbagliati la nave parte da Trieste tutti in treno di nuovo e vanno a Trieste salgono sulla motonave toscana il nome di quella nave che per 35 giorni li ha tenuti in mare e li ha portati a Cairns che è questo luogo nel nord-est dell'Australia dove lavorò come tagliatore di canna da zucchero e lotte litigi in questo lungo viaggio con altri italiani con serbi questa cosa e mio padre rimase lì per un po' di anni in questa piccola la definita una piccola capanna in mezzo alla piantagione di canna da zucchero con un cagnolino che gli faceva compagnia si chiamava Judy e poi una mattina si svegliò si guardò allo specchio e disse non mi sono riconosciuto la barba era talmente lunga che non mi sono riconosciuto e ho pensato che non dovevo restare lì e quindi chiuso il suo contratto andò verso sud quindi Sydney Melbourne dove c'è una grande comunità di australiani lì fece altri lavori dopo qualche anno voleva sposarsi parole proprio di mio padre e australiane esi un poco massa moderne quindi non c'era questa sorta di sì di riferimento culturale e quindi lui tornò in Italia proprio con l'idea di sposarsi per poi ritornare in Australia invece con un bediana che è sua moglie e mia mamma che però già lavorava in un manicomio in un'isola di Venezia a San Clemente e dove si conoscono? si conoscono in una serata in casa di parenti non è un matrimonio combinato ma è un matrimonio facilitato dai parenti perché entrambi erano abbastanza grandi per quell'età e senza fidanzati si sono conosciuti raccontano storie di un romanticismo di altri tempi ma senza limiti con alcuni enormi imbarazzi perché in quegli anni parliamo insomma i fini anni 50 inizio anni 60 si davano a lei all'inizio e poi si sposarono e dopo due anni arrivai io con un po' di fatica e qui c'è una storia devo dire per me straordinariamente ricca di significato però per questioni fisiche la gravidanza di Diana di mia mamma fu molto molto complicata a tal punto che a un certo punto i medici gli dissero signora o lei o il figlio credo credo non ne sono certo che addirittura consigliarono un aborto terapeutico non ci penso neanche lontanamente e questo fece sì che mia madre quindi per nove mesi fu molto affaticata molto incapace di muoversi e quando andarono a partorire a un certo punto il medico uscì e disse mio padre è nato e mio padre svenne perché per lui o c'ero io o c'era mia madre e in realtà stavano bene entrambi ti ricordi quanto misuravi e quanto pesavi alla nascita? 4 kg 80 grammi lungo sì abbastanza lungo però normale sì non gigantesco e da lì iniziò un po' questo percorso i miei tra l'altro dovete tornare a lavorare molto velocemente quindi io sono cresciuto con dei vicini di casa anche lì c'è un'altra storia a cui sono molto legato mio padre tornato in Italia ha trovato tanti lavori in quel periodo era un camionista e stava in giro chiaramente molto tempo mia madre aveva avuto il permesso per la gravidanza ma dopo 40 giorni bisognava tornare a lavorare o si perdeva il lavoro e la sera prima di ritornare a lavorare entrambi quindi senza la possibilità di accudirmi hanno fatto il giro dei parenti ma potreste darci una mano no mi dispiace non posso ma non c'era più nessuno salgono in macchina dopo l'ultimo rifiuto e mia madre piangente chiaramente non sa dove lasciare questo pupattolo e a un certo punto mio padre dice questo era il paesino in cui mio padre era nato quindi Torreselle prima di tornare a casa senza sapere cosa fare dico boh andiamo a trovare i Volpatti che sarebbero i Volpato una famiglia di vicini di casa e quando scesero il nonno Angelo disse a mia madre ciao Tosa te vedo triste dice qualcosa che non va mia madre si mise a piangere e disse eh Angelo come fiore domani devo andare a lavorare non so a chi dargli non sta a preoccuparti anche uno sia del fiore uno dei più uno dei manco cosa ha avuto che cambia e mi lasciarono con mio nonno che è diventato mio nonno Angelo naturalmente solo vicini di casa non parenti sono cresciuto in quella famiglia che è diventata la mia seconda famiglia sei cresciuto bilingue tuo papà te l'ha insegnato l'inglese che hai imparato in Australia o no? no lui l'aveva imparicchiato immagina anche adesso se tu parli con gli italiani immigrati in Australia non è uno spermi è un ibrido è molto ibrido lui è in grado e mi ha sempre sorpreso di cavarsela egresamente per il meno con tutti pur avendo come l'ha imparato a spizziche e bocconi su inglese un inglese strano però non mi ha insegnato l'inglese quindi non ho avuto l'occasione perché poi davvero in che quattro anni mio padre parla l'inglese ma se la cava non l'ha imparato definitivamente invece questo linguaggio aristocratico di darsi del lei tra fidanzati come ha impattato nella tua educazione è stata normale come nel mondo contemporaneo di oggi o hanno attinto un po' da quegli albori lì? no non è arrivato a me il lei il lei era quando loro si sono conosciuti con quell'attesamento ancora molto veneto cattolico molto praticante molto rispettoso con delle famiglie in quel caso molto attenti anche ai comportamenti quindi loro due quando raccontavano dei loro incontri anche adesso usano il lei per raccontarmi per condividere con me quale fosse il tono l'epoca l'epoca no Veneto venetissimo si parlava proprio venetissimo mi hanno sempre invitato i miei a imparare anche l'italiano che però in Veneto non è così normale credo sia uno dei luoghi in Italia in cui c'è ancora maggiore resistenza del dialetto vero e proprio con questa cultura della cultura mio padre riuscì a fare solo la terza media mia madre la quinta elementare ma non ebbero dubbi sul fatto di dire Andrea devi comunque studiare vai avanti con questa secondo me è fortissima e anche bellissima noterai che nei fronti i miei genitori ho un'enorme un'enorme stima e quindi credo che mi avranno anche in questo caso spinto con l'idea di guarda che è utile è una bella cosa e non è utile neanche perché fai i soldi è utile perché sapere le cose va bene tante volte io mi sono vergognata perché ero ignorante evita di vergognarti perché sei ignorante però va a studiare è arricchente sapere le cose ti metti a tuo agio ti metti le condizioni di parlare un po' con tutti però per davvero credo che quel Veneto io sono Veneto però poi sono scappato sono andato da Veneto da vent'anni e devo dire che dagli anni fine anni ottanta quando io me ne andai al Veneto più recente c'è una enorme gigantesca trasformazione che corrisponde guarda caso al boom del nord est se vi ricordate intorno ai anni 90 l'esplosione del Marco che divenne una moneta molto molto forte rese ricchissimi molti veneti molto laboriosi i metal mezzadri quelli che avevano la campagna e lavoravano anche in fabbrica e hanno mai riaperto qualche piccola officina dove hanno fatto materiali di altissima tecnologia diventando dei fornitori di aziende tedesche e in pochissimo tempo tantissimi divennero molto ricchi come spesso accade tanta ricchezza in poco tempo in un contesto un po' resistente alla cultura sono ingredienti che non sempre creano le condizioni più efficaci migliori volevano sposarsi ha lottato nove mesi in una dura gravidanza tua mamma Diana e quindi a livello di amore dopo che tu sei nato quanto ti hanno coccolato quanto rispetto anche al loro lavoro di avere un po' dei nonni putativi che erano i vicini ma quanto ti ricordi l'amore le coccole le parole rispetto al sentimento che hai ricevuto da piccolo io ricordo principalmente grandi viaggi mio padre era un autista è stato un autista ha amato i motori ha amato i camion le macchine quindi questa idea mia madre era una meravigliosa organizzatrice di viaggi ma nel senso che si viaggiava prima con la 850 poi con la lancia fulvia e ci si metteva dunque il picnic il tavolino viene messo lì il salame il formaggio il vino tutto perfetto e quindi era questi lunghi viaggi me le ricordo tra l'altro erano anche motivo di distinzione rispetto a un veneto in cui le vacanze non si fanno perché si lavora e si lavora sempre i miei lavoravano anche di domenica capitava che il turno fosse alla domenica quindi in realtà eravamo un po' alternativi rispetto a questo standard dei miei compagni di scuola dei miei vicini di casa e questi bellissimi viaggi in giro per l'Italia a comprare il prosciutto in Toscana e l'olio in Puglia ad andare in spiagge queste cose qui sono i ricordi più belli non credo di aver passato tantissimo tempo con i miei perché i miei lavoravano entrambi mia mamma stava assente lavorava per un paio di giorni a San Clemente poi tornava a casa quindi io da solo fin dalla prima elementare ricordo andavo a scuola in bicicletta da solo mi facevo da mangiare un pochino tutte queste cose e solo tanti anni dopo quando anch'io ho avuto un figlio Numa ho capito quale potesse essere il dramma la paura il terrore di mia madre che al lavoro pensava in questo istante Andrea prende la bicicletta esce di casa sta andando tramposso a quell'incrocio maledetto pericoloso con i camion che passano speriamo che non succeda assolutamente nulla avanti e indietro avendolo riprovato con mio figlio che pur a Milano comunque andava in queste cose solo tanti anni dopo ho capito quale fosse anche il coraggio che mi hanno avuto nel lasciarmi questa indipendenza ma anche per questioni legate al fatto che non si poteva fare altrimenti quindi fai un'infanzia normale tranquilla assolutamente quando incroci lo sport nella tua vita perché tu sei stato un grande campione di pallavolo lo dico così magari sanno esatto perché chi non ti conosce ha avuto un'enorme richiesta di ospitarti da persone più adulte ma secondo me per il tuo mindset e tante cose che dirai potrai piacere anche alle nuove generazioni c'è un gap generazionale sul fatto di riconoscermi primo perché gli sportivi come tu ben sai vengono fotografati molto cioè sono bravi in giovane età poi quando smettono tendono a finire nell'oblio e quindi ci sono poche volte foto di come invecchiano gli sportivi che pure invecchiano la barba bianca i capelli bianchi quindi questo anche a me quando capito di vedere le immagini di me da giovane dico ah è vero quindi c'è anche uno stacco di questo genere e poi comunque chi ha meno di 35 anni in questo momento non ha un'idea chiara di cosa è che torno agli anni 90 che è il periodo nel quale abbiamo fatto delle buone cose con la pallavolo prima della pallavolo ti voglio chiedere visto che per scaldarci un po' l'ugola prima di partire dall'inizio abbiamo parlato della tua altezza che all'inizio per te era come dire una vergogna era un ostacolo invece poi è diventato un vero plus quando ti sei reso conto di essere più alto degli altri allora sempre chiaramente sempre fin dall'elementari però ero un po' più alto degli altri in terza, quarta, quinta elementare c'era un altro amico Maurizio Zoggia oppure Claudia Trevisan mi ricordo ancora l'appello solo degli elementari naturalmente erano più o meno alti come me quindi ero tra i più alti ero magro lunghissimo ma non fuori misura quello che è accaduto a proposito l'ho scoperto perché facendo il chierichetto in Veneto non puoi fare altro che il chierichetto io l'ho fatto per tanti anni a un certo punto la tonaca dei chierichetti era troppo corta e quindi mi toccava usare quella di Don Marco che era un po' più lunga quindi lì iniziavo già a vedere la differenza tra me da come io crescevo e come crescevano i miei coetanei i miei compagni e però c'è un momento nel quale questa cosa come dire esplode in modo assolutamente casuale teni conto che io come tutti gli italiani ho detto un paio di calci a pallone davanti al campetto della scuola davanti al campetto della chiesa di Torreselle ma veramente scarsissimo non praticavo sport di nessun tipo e frequentavo il liceo classico anche lì per un caso fortuito andando a scuola a Castelfranco Veneto che è in provincia di Treviso ma essendo residente a Torreselle che è in provincia di Patova quando io arrivai mi disse posso scrivermi al liceo scientifico e sì ci piacerebbe ma abbiamo finito i numeri se vuole c'è posto al classico vabbè facciamo il classico facciamo senza avere idea tra l'altro scoprendo che non sapevo veramente niente cioè latino greco furono delle pugni in faccia spade di Damocle io non sapevo cosa fosse un complemento oggetto e quindi che l'accusativo è il caso del complemento oggetto di cosa si tratta mentre gli altri erano più loro agio comunque quarta ginnasio riesco a cavarmela in quinta ginnasio a un certo punto il prof di educazione fisica mi disse senti ma quinta ginnasio vuol dire che età? è il secondo anno intorno a 15 anni 15 anni e mezzo il prof di educazione fisica mi disse ma senti ma così alto ma così d'alto ma fa sport perché non facevo nulla quanti eri alto a 15 anni? un'87 85-87 non ho i ricordi precisi comunque lì eri veramente il più alto non c'erano più i tuoi coetanei lì ero già il più alto ma non fuori misura come adesso e quindi l'idea è fai sport sport per gente alta basket o pallavolo e scelsi la pallavolo solo perché era più vicino a casa mia non per altre ragioni non perché avesse il mito dello sport non perché volessi fare sport in casa non si parlava di sport più di tanto semplicemente era un invito tra l'altro un invito fatto ai miei genitori perché io a scuola andavo così così e loro dissero ma sto ragazzo qui provate a fargli fare sport che magari gli dà un po' di motivazione in più immagina in quegli anni quando sport e scuola erano spesso nemici un prof del liceo classico che arriva a dire Albino e Diano ma provate a fargli fare sport che mai lo aiuta e fu effettivamente così è assolutamente una cosa un po' speciale quindi mi trovai in palestra a Silvelle di Trebaselle paesino vicino a Torreselle parliamo sempre di provincia di Padova Pianura Veneta iniziò anni 80 ed ero chiaramente a 16 anni quindi già avanti per iniziare a giocare la pallavolo scarso ma scarso scarso da morire e però ero in mezzo a gente alta e quindi per me questa idea qui la pallavolo non mi dava nessuna gratificazione sul piano sportivo su come giocavo ma ero in mezzo a gente alta potevo andare in giro la domenica con qualche mio compagno che era più o meno alto come me e questa cosa era di enorme tranquillità in qualche modo ti raccontavo quando vai in discoteca sei troppo alto e capisci che le ragazze ti guardano un po' storto perché sei troppo alto se chiedi di ballare un lento sei imbarazzato tu ed hai imbarazzato anche lei ma giustamente e a quell'età basta veramente poco per sentirsi fuori posto e quindi l'altezza che poi è diventata un enorme vantaggio in quegli anni era solo quanto sono alto sono troppo alto per i miei gusti vorrei essere un pochino più basso e la pallavolo cambiò letteralmente la prospettiva di questa altezza sulla quale non c'era scelta da fare quindi ti sentivi a tuo agio in mezzo alle persone alte ma eri scarso perché non avevi mai fatto sport e tantomeno la pallavolo e quando c'è lo switch quando è che capisci che può succedere qualcosa in più allora come tu beh sai i ricordi non sono testimoni fedeli però mi è capitato più volte di chiedere anche ai miei ex allenatori cosa sia accaduto perché avessero investito su di me avessero creduto in me così tanto perché per davvero io tecnicamente ero incapace i miei compagni di squadra della nazionale hanno iniziato a giocare grosso modo intorno ai 12 anni hanno lavorato sui fondamentali sulle tecniche di base sul bagger sul palleggio sulla ricezione e quant'altro io ho arrivato a 16 anni lungo lungo magro magro e non sapevo fare veramente nulla c'è una frase che in qualche modo è un po' mitica ed è legata ad Alexander Skiba un allenatore polacco somigliava molto a Rasputin sopracciglia grossissime occhi inquisitori lui era allenatore del Nazionale Juniors e ricordo che io feci veramente un paio di stupidate ed è un eufemismo ciclobiche schiantando palloni contro il soffitto facendo errori di quelli che si metterebbe a ridere un ragazzino e tanti anni dopo Skiba mi disse ma tu lo sai perché ti ho tenuto nonostante quelle robe che non si potevano guardare perché ti sono venute le guance rosse e ho capito che tu ci tendi a giocare a pallavoro perché chi si vergogna si impegna ora questo è il riassunto un pochino però immedesimiamoci in un ragazzo che vuole cominciare che normalmente appunto anche non so se il mondo del calcio diverga così tanto dal mondo della pallavolo però i genitori sono convinti che se non li mandi a giocare quando hanno 5-6 anni subito subito non diventeranno mai dei campioni quindi piacerebbe che tu potessi sfatare questo mito ma nella pallavolo a 16 anni è comunque tardi se vuoi fare un percorso quindi cioè tu sei partito scarso sei partito tardi e cosa è successo quando è successa quell'alchimia dove invece stavi al passo rispetto a tutti gli altri allora fecero una selezione per i mondiali di pallavolo juniores si avrebbero giocati qualche anno dopo io avevo 17 anni quindi un anno dopo appena iniziato e chiamarono letteralmente chiunque fosse un po' alto e giocasse a pallavolo ok era tale l'interesse per organizzare questi mondiali che non hanno fatto scelte con selezioni hanno chiamato praticamente tutti la domanda è perché ti hanno tenuto i racconti esterni sono che del fatto che qualcuno ha intravisto nei miei occhi nella mia timidezza nelle mie dimensioni un potenziale quante volte giocavi a settimana in quel periodo? dal secondo anno mi allenavo tutti i giorni e il primo? tre volte alla settimana quindi eri scarso facevi tre volte alla settimana vai tutti i giorni vuol dire che comunque ti senti all'altezza vuol dire che c'è qualcosa che ti dà fiducia in te stesso se no non molli sì mi stai portando su un tema che è di enorme delicatezza e di enorme importanza perché lo è delicato da una parte io non sopporto più per l'età che ho l'idea che volere è potere che la sconfitta non è un'opzione che dipende solo da te trovo che questi slogan che naturalmente hanno un fondo di valore siano diventati eccessivamente retorici mi piacerebbe portare un po' l'idea che è vero che la motivazione che l'impegno che il sacrificio con tutte le dovute cautele sono importanti ma non che si può fare ciò che si vuole per me questa è una chiave fondamentale se no diventa veramente quindi mi dice lo sport non è inclusivo se vuoi arrivare a quei livelli allora partiamo da quest'idea qui battaglia devo dire un po' più recente devo dirlo a chi mi conosce meno io queste cose che dico adesso sono chiaramente il ripensamento la rielaborazione di un uomo che ha quasi 60 anni il frutto della tua esperienza che ha pensato tante volte anche nella tua carriera non pensavo e non dicevo queste cose quando ero giocatore e quando ero più giovane quindi chiaramente adesso la prospettiva prevalente è quella dell'uomo adulto che ripensa a un passato sport inclusivo no naturalmente no al massimo può essere inclusivo lo sport perché hai così tante discipline sport per gente alta sport per gente bassa sport per gente veloce resistente o muscolosa quindi che lo sport in generale offre un sacco di opportunità cioè c'è spazio per tutti ma lo sport è intimamente selettivo e lo è per una ragione più che legittima secondo me se vuoi garantire l'equità della competizione devi essere selettivo non puoi far gareggiare uno troppo forte troppo grande troppo grosso con uno troppo piccolo se fanno male quindi per garantire l'equità della competizione devi essere selettivo allora l'idea è lo sport non si può configurare come un ambiente inclusivo può essere uno sport in cui impari i tuoi limiti certo che sì devi fare i conti col tuo corpo devi rispettarti e sono cose bellissime importantissime però mi vale la pena dire quali sono i valori che lo sport può portare e quali sono i valori che lo sport invece non può portare e ripeto lo dico perché anche in questo caso sento tante volte dire che lo sport è un maestro di vita che lo sport è un modello educativo anche lì di che sport parliamo parliamo dello sport top level professionistico dello sport amatoriale parliamo delle attività motorie è chiaro che in ogni contesto c'è qualcosa di molto bello che può essere prodotto avanti però c'è un po' di retorica che per me è praticamente pericolosa perché è come se lo sport godesse di una disponibilità molto superiore ad altri ambienti quando invece io credo nello sport ma essendo un ex sportivo come se sentissi su di me il compito di difendere anche occhio che se fate promesse dovete mantenerle se dite che lo sport è inclusivo voi non potete premiare solo la prestazione perché non è pallavolo non basta essere alti ma essere alti aiuta ma certo che aiuta e dove sarebbe l'inclusività percorriamo la tua carriera dicono che tu hai fatto parte della squadra più forte di tutti i tempi a pallavolo ma adesso me lo racconti andiamoci per gradi sedici anni e mezzo tre allenamenti a settimana a un certo punto prendi fiducia in te stesso un allenamento al giorno sei felice immagino c'è un contesto che ti appaga ti piace ti sarai fatto degli amici cioè per darci dentro in quel modo e fare all in qualcosa succede nella tua testa la pagamento è principalmente sul piano umano ok cioè io stavo molto meglio in palestra che in discoteca chiaro ecco perché quando si dice occorre fare grandi sacrifici è vero io per molti anni ho lavorato 12 mesi all'anno ho fatto poche vacanze alla sera non si usciva si stava tante ore in palestra quindi si configura come una vita impegnativa ma il mio ricordo personale non vorrei neanche sminuirlo troppo non è quello oh quanta fatica che ho fatto perché in fondo stare lì giocare a pallavolo con i miei amici alti in un contesto rassicurante era il luogo più confortevole che io potessi frequentare quando è che hai sentito di essere in grado di farcela? ci sono un paio di step il primo è come tu dicevi quando in poco tempo ti convocano i nazionali unioni ti rendi conto che il tuo livello non è a livello degli altri però fisicamente sei un potenziale importante qualcuno ha detto anche che sono un fast learner uno che ha imparato abbastanza velocemente e quindi mi hanno tenuto in quella nazionale abbiamo partecipato agli europei e mondiali e ai mondiali in cui ho giocato anche abbastanza un'indicazione per chi conosce la pallavolo io ho giocato sempre schiacciatore schiacciatore opposto vuol dire che il mio compito era principalmente anzi quasi esclusivamente schiacciare non ero coinvolto in tutti i fondamentali io non ero molto completo in ricezione in palleggio però potevo essere un ruolo super specializzato di fatto essendo grande grosso con le mani gigantesche quel ruolo mi permetteva di essere anche un po' meno completo ma di essere super efficace diciamo così un finalizzatore negli sport di squadra come si chiamano i ruoli dei sei giocatori? palleggiatore uno solo? uno solo quello girato? dagli anni 70 in poi si è passato dal 4-2 che significava quattro schiacciatori e due palleggiatori al 5-1 un solo palleggiatore che palleggia sempre quando è in prima linea quando è vicino alla rete e quando è in seconda linea quindi distante da rete un unico palleggiatore poi ci sono due schiacciatori ricevitori che sono quelli quindi che ricevono la palla quindi ricevono la battuta stanno dietro poi si muovono si può muovere nel campo di pallavolo ci sono due centrali che si chiamano centrali perché stanno al centro della rete e sono quelli che si occupano di murare e di attaccare la palla molto molto veloce e poi c'è uno schiacciatore opposto perché parte dalla parte opposta del palleggiatore più in diagonale perché lo si chiama così quindi schiacciatore opposto attaccante principale i centrali attaccanti primo tempo veloce e muro gli schiacciatori sono un po' quelli più completi il palleggiatore è chiaramente il regista il playmaker la mente della squadra nel 1998 ci fu una rivoluzione regolamentare nel quale hanno inserito anche un nuovo ruolo che è il libero che è un ragazzo un po' più basso di solito perché gioca sempre distante da rete e può solo ricevere e difendere e quindi se è un po' più basso è più veloce dei compagni e questa cosa l'hanno fatta apposta per creare almeno un ruolo nella pallavolo in cui l'altezza non fosse un vantaggio così discriminante e lui prende il posto di quale dei sei che hai detto prima? di solito dei centrali poi entriamo nel dettaglio in realtà il centrale che di solito è alto alto grande grande sta in prima linea quando va in battuta batte finisce quell'azione lui va in panchina ed entra il libero ok e quindi il libero non sta alle regole della sostituzione dei compagni perché proprio questo entra ed esce con molta velocità di solito entra perché dietro è molto più efficace per la sua velocità per la sua abilità nei fondamentali in cui quelli alti non sono particolarmente bravi se vuoi un effetto collaterale non previsto l'idea della federazione mondiale era quella di dire perché non cerchiamo di fare in modo che anche la pallavolo dia spazio a un atleta non gigantesco il libero è una grande idea peccato che il libero occupandosi dei quindi fondamentali in seconda linea ha liberato gli altri giocatori di questo compito e sono ancora più alti gli altri giocatori quindi i centrali grazie al libero quelli moderni sono ancora più alti dei centrali del passato questo è uno dei cosiddetti effetti collaterali non previsti con la buona idea di provare a essere più inclusivi entriamo nell'escursus quindi dopo un anno 17 anni e mezzo circa un allenamento al giorno ti convocano e poi giochi vicino a casa a quell'età? abbastanza io faccio due anni e chi ti porta agli allenamenti tutti i giorni? allora io faccio due anni a Silvelle qui andavo con il mio motorino da solo ok poi arriva una squadra di Padova di A2 quindi la seconda serie che dice questo ragazzo qui potrebbe provarcela abbiamo un bravo allenatore vinto da noi 35 chilometri sei in quinta? sono sì non ti ha mai rallentato gli studi? non sei mai stato bocciato perché comunque dedicavi molto tempo allo sport? no ce l'hai fatta? ce l'ho fatta con un po' di accondiscendenza da parte dei professori che hanno capito che hanno capito io ho fatto del mio meglio mi hanno promosso col 37 37 in quegli anni era il minimo con cui sono riuscito a passare l'esame di maturità e il mio spostamento da Torre Selle a Padova 40 chilometri mia madre era già in pensione in quegli anni e quindi io ricordo che ho preso il foglio rosa e quindi potevo guidare a patto che a Tianco ci fosse un patentato e quindi tutte le sere facevo le mie andate e ritorno a Padova ho fatto 20.000 chilometri con foglio rosa mia madre mi aspettava durante l'allenamento e fino a quando non ho avuto la patente da solo mi ha accompagnato mi ha sostenuto mi hanno aiutato e questa cosa è stata chiaramente decisiva quando vai lì in A2 ti pagano? non ancora per la verità c'erano ricordo 200.000 lire al mezzo di rimborso spese ma era proprio così invece in questo caso c'era come dire un impegno sul piano di allenamento quotidiano allenatori bravi compagni di squadra bravi la A2 e la Serie B del calcio quindi si iniziava a commutarsi veramente con persone alte e durante l'estate Nazionali Juniorers allenamenti viaggi tournee in giro per il mondo quindi giocavi 12 mesi all'anno 12 mesi all'anno 12 mesi all'anno in continuazione sempre quello ed eri felice felicissimo felicissimo teni conto felice cioè noi abbiamo fatto trasferte a Cuba siamo andati in giro per il Brasile siamo andati a fare nell'Unione Sovietica già a quell'età o dopo? no già a quell'età lì già con la Juniorers abbiamo iniziato a viaggiare ed erano cose meravigliose c'era proprio anche la soddisfazione di fare qualcosa che già percepivo come speciale il mio livello di gioco non era ancora straordinario paragonato ai miei compagni o ai miei avversari internazionali però che già quello della Juniorers fosse un ambiente meravigliosamente attraente questo era bellissimo ma era uno sport povero o ricco? perché comunque le trasferte insomma sarà stato oneroso muovere quella macchina la pallavolo è da molti anni uno sport molto diffuso tra i più diffusi in Italia con un rapporto invertito tra maschi e femmine tantissime ragazze che giocano a pallavolo e meno maschi ok con la nostra generazione ha fatto il salto definitivo da sport diffuso ma non ricco e non popolare e con quelle vittorie degli anni 90 diventa anche uno sport popolare e anche abbastanza ricco però per tutti un esempio specifico proprio quando io ho 20 anni quindi 85 esattamente bravo 85 quando arrivò la Sant'Al di Parma che insieme a quella Papparini di Modena erano le squadre più forti d'Italia venne a Torrezelli e dissero vorremmo che Andrea venisse a giocare a Parma ti eri diplomato quindi eri libero avevo preso il diploma col 37 avevamo giocato i mondiali juniors e poi arriva a settembre come sono andati quei mondiali? abbiamo perso in finale con l'Unione Sovietica quindi un bel percorso un argento un argento ti ha insegnato qualcosa a livello di mentalità in quell'anno ti si è sbloccato qualcosa quindi non era più miglioro nel piano di gioco ma una mentalità per vincere una concentrazione per vincere una coesione con la squadra un'armonia di squadra credo siano aspetti un po' diversi l'armonia la coesione con la squadra nella pallavolo in modo particolare è un elemento imprescindibile c'è una questione anche molto tecnica non di natura morale tecnica la pallavolo è l'unico sport di squadra che per regolamento ti obbliga a passare la palla al tuo compagno perché non puoi toccare la pallavolo le volte consecutive quindi questo fa sì che se in alcuni sport l'azione individuale può diventare risolutiva perché non è dietata nella pallavolo tu sei nello sport col più alto grado di interdipendenza tra tutti questo fa sì che sei obbligato non c'è scelta non c'è una come dire caratteristica etica o morale i pallavolisti sono più bravi a collaborare l'ambiente li plasma e li obbliga a collaborare quindi in questione di coesione nella pallavolo è inevitabile per quanto riguarda invece l'idea di capire quali fossero i criteri per essere performante efficiente quelli sono arrivati un pochino dopo sono arrivati era ancora questo tipo di flusso molto giovanile un po' incosciente in cui tra coraggio e incoscienza non sai bene dove sta il limite queste cose quindi per me quegli anni erano anni bellissimi di cui è un bel ricordo chiaramente ma non sono ancora ma molto leggeri spensierati non sono ancora catalogabili quanto hai vinto come hai giocato a che livello sei il flusso bellissimo sta lì dentro e quant'altro hai vent'anni arriva la chiamata di una delle due squadre più forti in Italia A1 si dice A1 bravissimo si si diceva A1 adesso è la Superlega adesso si chiama Superlega però da pochi anni in quegli anni la A1 era la massima serie e le due più forti erano Parma e Modena era Parma e Modena e chi ti chiama? mi chiama Parma e per dirti quale fosse la relazione anche tra popolarità ma anche aspetto economico mi offrirono un milione e cinquecento miliardi al mese mio padre che faceva l'autista degli autobus prendeva un milione e cinque al mese quindi uno stipendio di un autista degli autobus che era per me un'enormità cioè vado fuori di casa in un'altra città per giocare a pallavolo e mi pagano anche quindi questo nella mia testa è stato un momento in cui la pallavolo ha smesso di essere solo quel meraviglioso luogo confortevole in cui stavo bene mi piaceva giocare si vinceva e si perdeva interessava fino a un certo punto stava diventando una cosa bella interessante anche professionalmente lo spostamento a Parma chiaramente fu eccitante vi lascio immaginare Torreselle mille abitanti Parma nell'85 era non la città più vivibile ma di gran lunga la più bella città d'Italia insieme a tutte le classifiche del mondo era ricca la Parmalat c'erano un sacco di grandi aziende c'erano bellissime donne bellissime ragazze e tra l'altro io arrivo lì e sono un giocatore di una squadra molto popolare quindi diventi anche famoso bravo se prima scusa balleresti un lento con me perché sei troppo alto te lo chiedevano loro a te la prima partita che ho fatto in Serie A a Parma senza giocare in panchina e basta a fine partita arriva la fila delle ragazzine che chiedono un autografo io mi sono seduto su un tavolino ed ero veramente felice come una Pasqua perché mi stava cambiando il mondo da un giorno all'altro chiaro qui cambiava anche il luogo però la pallavolo è diventata qualcosa di professionalmente tangibile uno spostamento da casa dei miei genitori e tra l'altro ero un nuovo zorro non ero ancora zorro era il nuovo Andrea quello di prima era l'Andrea Pingoloni in difficoltà troppo alto e qui era il giocatore di pallavolo i tuoi genitori come hanno preso il fatto del trasferimento erano tristi hanno capito erano felici qual era lo stato d'animo in casa essendo figlio unico provo a condensartela così loro dissero Andrea ci sembra una bella occasione se ce la fai siamo felici veniamo a vederti e l'hanno fatto sempre l'hanno fatto in trasferta in casa a Parma mi hanno seguito sempre e se non funziona torni a casa e siamo a posto che adesso da adulto da genitore dico credo sia il modo migliore per accompagnare senza forzare senza mettere pressione quindi questa naturalezza e loro mi hanno seguito per tutta la vita a proposito di pressione vedi io sono amante del calcio quindi non conosco la pallavolo e vedo nel calcio magari dei giovani che arrivano in una squadra importante e c'è l'ansia della prestazione fanno molta fatica di inserirsi poi si mette un po' troppa fretta ai giovani quindi ci si aspetta sempre un grande risultato subito soprattutto se una persona arriva dall'estero quindi arriva da una cultura calcistica diversa quindi non gli si lascia il tempo di sviluppo ma questo è un altro argomento volevo capire te la pressione l'ansia di prestazione come affronti la prima grande sfida è un lavoro ti pagano hai popolarità quindi insomma hai l'occhio di bue in un certo qual modo puntate anche quando sei in panchina e come vivi quella cosa lì senti questa ansia o invece la parte leggera prende il sopravviamento e riesce ad integrarti molto facilmente dai 20 ai 24 anni quindi i primi quattro anni in serie A tutti a Parma tutti a Parma io sono rimasto lì cinque anni sono rimasto a Parma quindi un lungo periodo i primi anni a Parma per me sono ancora una incredibile incoscienza ok nonostante ci fosse l'importanza della squadra anche delle grandi sconfitte i giornali che ne parlavano i quotidiani ricordate internet era di là da venire ovviamente il limite tra pubblico e privato era assolutamente solido e inattaccabile la convinzione che i tifosi avessero il diritto di dire a fare quello che volevano non era ancora stata lasciata passare e quindi il contesto era radicalmente diverso e la pallavolo non era il calcio quindi il numero dei tifosi e la tipologia dei tifosi era chiaramente diversa quindi le pressioni a cui siamo sottoposti noi pallavolisti è decisamente inferiore a quanto accade a sport popolari e ricchi come in calcio però per alcuni anni non ho sentito questa pressione l'ho sentita ad un certo punto invece quando è accaduto che per un po' di anni abbiamo comunque perso contro la Pring di Modena dove c'era Julio Velasco che poi si era preso il nostro grande allenatore c'erano i miei pari età che giocavano meglio e vincevano di più di me ero diventato il magnifico perdente colui che giocava bene quando contava poco e giocava male quando contava molto avevi già quel ruolo che hai raccontato prima? sì io ho fatto solo quello in vita mia a parte un paio di piccole esperienze diverse ma ho fatto sempre quello in vita mia quindi proprio finalizzatore fino all'osso quindi arrivavate sempre secondi? sì sì sempre secondi sempre secondi e questa cosa ha poi iniziato a pesare molto anche perché non c'era più a te o all'ambiente? a entrambi a entrambi Parma è una città molto richiedente sul piano della pallavolo ma lo è anche culturalmente questo origini francesi ok di Parma questo loro accento ancora un po' rotolato con la R li rende all'interno del panorama emiliano quelli che vogliono essere comunque i migliori e quindi anche nella pallavolo la sconfitta non è raccolta con grande simpatia come inevitabile che sia però a un certo punto dopo qualche anno in cui potevo essere il giovane che aveva responsabilità ma c'erano anche gli altri a un certo punto ero il momento in cui adesso sei tu che devi provare a dimostrare quello che sei capace di fare e quant'altro e questo è stato un momento per me la vera grande cesura nella mia vita in cui la parte incosciente di gioco è diventata vuoi essere un giocatore forte devi prendere responsabilità e anche la pressione è aumentata radicalmente ed esponenzialmente siamo nel 90 siamo nel 90 siamo nel 90 sei a Parma il tuo ultimo anno il mio ultimo anno c'è un'altra data ancora più importante per quanto mi riguarda che è legata alla Nazionale 89 Julio Velasco quello che ha vinto gli scudetti consecutivamente con la Panini di Modena contro la nostra squadra di Parma diventa la natura della Nazionale e crea un nuovo percorso con i due gruppi di queste due squadre quindi acerrimi nemici io e qui tutti insieme tutti insieme io non sono sicuro ma penso che forse a domenica sera noi perdiamo gara 5 di finale scudetto contro la Panini quindi la peggior sconfitte che uno possa avere e il mercoledì tutti insieme a Modena a Riparticola Nazionale lui è stato l'allenatore che ti ha fatto fare lo switch mentale alla domanda di prima lui quel gruppo quell'ambiente Julio Velasco anche tu che forse lo conosci molto la Palavolo lo conosci perché è un grandissimo allenatore un grandissimo speaker una persona di enorme intelligenza di grande fascino un grande comunicatore una persona che con il suo accento sudamericano rende ancora più attraente lui è veramente una persona affascinante direi questo direi lo dico da suo giocatore talvolta si tende a focalizzarsi un po' troppo solo sui suoi meriti lui ha avuto un merito certo che sia gigantesco ma quella squadra era composta di un grandissimo allenatore e da grandissimi giocatori mi fai i nomi dei tuoi compagni Lorenzo Bernardi il miglior giocatore di Palavolo del ventesimo secolo della squadra che è la miglior squadra di Palavolo del ventesimo secolo Andrea Lucchetta Luca Cantagalli Andrea Gianni Toffoli veramente una quantità di giocatori straordinari e l'89 è il momento di grande cambiamento perché lì c'è uno step sei in Serie A sei pagato abbastanza bene però lì come dire il livello cambia radicalmente quella nazionale che vince l'europeo in modo imprevedibile a Stoccolma diventa un fenomeno nazionale perché l'Italia non l'aveva mai vinto negli ultimi anni non l'aveva mai vinto l'europeo mai mai l'aveva mai vinto il risultato più grande era una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 una medaglia d'oro alle Universiadi che però è un torneo chiaramente minore e poco altro quindi la prima medaglia d'oro è dell'89 con quel gruppo nell'89 con quella squadra con quella mentalità fai un upgrade mentale quindi nel 90 quando ti viene chiesto nel Parma di essere consapevole della tua nuova missione di prendere la squadra in mano che succede? un po' così allora lì c'è una chiave che a me piace moltissimo questi due gruppi acerrimi rivali che riescono grazie a un ambiente virtuoso durissimo di super competizione ma onestamente competitivo a trasformare questo conflitto personale nella benzina meravigliosa per fare tutti sempre del loro meglio fantastico faticoso da morire nulla era complicato come giocare contro i nostri compagni nei club gli allenamenti della nostra nazionale erano veramente a livelli altissimi perché Velasco bravo a stimolarci e anche un po' a manipolarci su questa nostra sfida reciproca veramente fantastico però per quanto mi riguarda questa onestà questa pulizia di sfida reciproca è stata qualcosa di meraviglioso nessuno ha mai tentato di far deviare la propria competizione su comportamenti non corretti cioè io sono più forte di te te lo dimostro nel rispetto delle regole e tu fai uguale ah sì e io faccio meglio meraviglioso qual è la competizione più importante al mondo per la pallavola olimpiadi cioè qual è quella che non abbiamo mai vinto olimpiadi decisamente e la successiva va beh io lo ricordo perché ero fan di NBA con il Dream Team nel 92 a Barcellona allora guarda velocemente cronologia 89 meravigliosa rivoluzione si vince l'europeo a Stoccolma la pallavola diventa popolare anche in Italia si finisce in televisione nel 90 ci sono i mondiali e l'Italia nel 90 vince la World League un torneo itinerante con milioni di dollari di premi per la prima volta vinciamo il Goodwill Game che è un altro torneo non di grande rilevanza ma tecnicamente valido e vinciamo il mondiale in Brasile con una famosa semifinale Maracanesigno 27.000 tifosi brasiliani contro il Brasile quinto set 14-13 Lucchetta ultimo punto andiamo in finale che vinciamo con Cuba questa è velocissimamente la storia però il Brasile la patria della pallavolo dei tifosi scatenati e noi che vinciamo lì è proprio qualcosa che ha cambiato il nostro mondo e anche la percezione nostra rispetto all'Italia e al mondo in generale arrivano i soldi molti soldi Berlusconi Gardini Benetton non dire Berlusconi Gardini e arrivano i soldi cioè nel senso stava diventando così popolare quello sport che investono in quello sport nel senso comprano squadre esattamente esattamente Berlusconi compra squadre di Milano Berlusconi compra Milano Benetton continua con Treviso e Gardini compra Ravenna ok teni conto che io nel 90 giocavo a Parma intanto abbiamo vinto i cinque tornei quintupleti abbiamo fatto tutti i cinque tornei abbiamo vinti arrivo a Milano e mi offre più di dieci volte quanto io prendevo a Parma quindi a Parma hai preso un milione e mezzo per cinque anni o hai aumentato poi nel tempo non ho aumentato e quindi hai preso più di venti milioni quando sei andato a giocare a Milano in realtà già a Parma nei cinque anni era aumentato molto era già un buono per quegli anni era già un buono stipendio ma Milano esattamente come Ravenna con Gardini hanno trattato la pallavolo come se fosse quasi il calcio quasi il calcio io ricordo che dissi anche ai miei tifosi di Parma vado a Milano per una scelta di vita e quando tornai a giocare a Parma con la maglia di Milano mi accolsero con gli strifioni con le vecchie centomila lire con la mia faccia al posto di quella non so se sia Verdi o chi altro quindi insomma era chiaro che l'offerta economica era irrinunciabile però sta di fatto che nel 90 quindi c'è un cambio mostruoso di popolarità conseguenza diciamo così quasi inevitabile non è facile tenere la testa e i piedi per terra quando ti cambia il mondo così velocemente quando diventi uno io e Lucchetta andiamo a Sanremo Sanremo negli anni 90 anche adesso è grande cioè veramente cose inimmaginabili e cos'è accaduto che invece di continuare ad essere quella squadra che aveva tenuto la rotta con molta disponibilità con il massimo impegno un pochino siamo distratti in un mondo che era così attraente così luccicante c'è una domanda su quello perché mi hai parlato del disagio in discoteca usi il benchmark della discoteca come capitale del disagio però ti vedo una persona più che timida abbastanza riservata molto educata e quindi volevo immaginarti da noto come vivevi il successo in quegli anni di Milano di Berlusconi e quindi in un momento abbiente della tua vita dove girava tutto bene sia la quota rosa che la pecunia e tutto quello che girava in quel sistema come vivevi quel momento lì? Allora considera questo il premio per l'oro all'europeo il premio della federazione era 60 milioni di lire ok ok io ho preso l'assegno andai in un concessionario di camper e comprai con 60 milioni di lire uno dei più bei camper che ci fosse in quel momento e ho fatto il camperista quindi sulla riservatezza il mio tempo libero era in giro in camper non in discoteca fuori dal resibizionismo mi capitava qualche volta ovviamente di fare qualche evento o qualcosa in giro davvero la pluralità era forte in quegli anni forte soprattutto per alcuni di noi io Lucchetta Bernardi e quant'altro popolarità quasi a livello calcistico a me piace mi piace ma non sono molto a mio agio in questi luoghi pubblici quindi se devo fare lo faccio ma non frequento volutamente luoghi così affollati vai a Milano e quanto tempo ci rimani? 4 anni 90-94 90-94 nel frattempo ci sono le Olimpiadi bravo Milano è anche legato al fatto che io qualche anno prima ho conosciuto Giulia Staccioli meravigliosa e fantastica ginnastia della ritmica alle Olimpiadi di Seul ci conosciamo inizio l'apporto che all'inizio è abbastanza conflittuale quindi in realtà litighiamo quasi per un anno poi ci fidanziamo Giulia vive a Milano nonostante i genitori siano toscani studia vive a Milano gareggia a Milano e quindi quando vengo a Milano in realtà inizia anche a consolidare il mio rapporto con Giulia che in quegli anni inizierà a lavorare con Momix andrà poi negli Stati Uniti resterà per qualche anno nella compagnia tornerà in Italia e fonderà i Cataclò che è questa compagnia di danza pazzesca che anno fonda i Cataclò nel 96 siamo sposati nel 93 il viaggio di nozzi che abbiamo fatto è per accompagnare lei nel Connecticut dove ha la sede la compagnia di Momix di Moses Pendleton lei poi ha girato il mondo per anni con Momix e poi a tutto punto ha smesso e tu dove stavi quando lei girava il mondo? io giocavo a Treviso e a Macerata vi sposate? prima litighiamo si litigate poi ci vidanziamo ok quindi insomma mettete le radici è ben solide dopo di che vi sposate? 93 e poi? poi io continuo a giocare ancora qualche anno lei crea Cataclò nel 96 e il nostro rapporto credo si riconosca secondo me in un infinito amore ma anche nell'indipendenza nell'autonomia lei è venuta qualche volta a Treviso è venuta qualche volta a Macerata quando io giocavo però ha sempre mantenuto i suoi personali interessi che comunque erano da un certo punto in poi legati alla danza alla parte artistica il papà di Giulia è un grande scultore fa gigantesche sculture in giro per il mondo tra l'altro a Seul dove siamo conosciuti io e Giulia c'è una scultura gigantesca di 60 metri che unisce il palazzo del nuoto dal palazzo della ginnastica dove siamo incrociati casualmente con un'opera d'arte del padre di Giulia l'amore prosegue la vita in comune comincia con la giusta indipendenza e dopo qualche anno io smetto di fare il pallavolista nel 98 ed è in quel momento senza tra l'altro averlo cercato che Giulia rimane incinta e nasce in Numa che è nostro figlio N-U-M-A figlio unico figlio unico quindi nasce nel 99 febbraio 99 nel 2004 io e Giulia ci separiamo perché direi che come spesso accade accade alle donne hanno una forma più sintetica per raccontare quello che accade e la maternità per Giulia un po' la quotidianità del nostro rapporto aveva iniziato a erodere un po' quello che era il modo in cui stavamo insieme Giulia più volte mi ha raccontato con un'enorme onestà che avere un figlio in qualche modo ti obbliga e ti porta anche a cambiare un po' le tue priorità e quindi tutte queste cose messe insieme aggiungiamo anche che io ho appena smesso di fare il pallavolista non ero più un atleta non sapevo bene che cos'ero ancora smettere di fare l'atleta non è esattamente la cosa più semplice del mondo sia che tu sia popolare sia che tu non lo sia quindi tutti questi aspetti hanno secondo me creato le condizioni per questa separazione che però che però è durata sette anni nel 2011 io e Giulia siamo andati insieme e siamo ancora felicemente sposati barito e moglie padre e madre felice di Numa che adesso studia fisica e sta per fare gli ultimi due anni a Roma e sì molto fiero felice grato di questa storia così speciale che ripeto si configura con autonomia indipendenza un lungo distacco una grande onestà reciproca e un insperato ritorno che però è stata tra le più belle gioie che ho mai provato in vita mia però ho una domanda su questo per sette anni ognuno fa la sua vita vostro figlio ha cinque anni dai quattro anni fino agli undici ok va con la mamma sta con entrambi ok quindi abitate vicino abbastanza vicino a Milano dopo sette anni dove sai che forse ognuno di voi ha avuto delle altre esperienze no? in quel tempo lì vostro figlio che era un pupazzino che vi rivede insieme era una sensazione forse particolare per lui rivedere i suoi genitori sotto lo stesso tetto ma tu a livello mentale come hai affrontato questa cosa il ritorno perché devi comunque accettare tutto quello che può essere successo perché quando ami senti molto tuo no? quell'amore ne sei un po' un po' geloso non possessivo ne sei ne sei geloso legittima domanda con una spiegazione io non so con precisione cosa sia accaduto a Giulia cosa ha fatto Giulia con precisione lo so a grandi linee non ne avete mai parlato ne abbiamo parlato non nel dettaglio la cosa però che ha portato entrambi a tornare insieme è che entrambi seppur con percorsi diversi e forse con necessità diverse io maschio quarantenne lei donna quarantenne i nostri percorsi sono sicuramente un po' diversi sta di fatto che in quei sette anni nessuno dei due ha mai avuto una relazione seria ha pensato per davvero di ricostruire qualcosa di nuovo e quindi il nostro figlio ci ha visto separati non ci ha visto in altre relazioni e per me questa chiave è stata importante cioè se nonostante l'assoluta libertà in qualche modo senza sapere perché non è cominciato qualcosa vuol dire che il nostro rapporto era rimasto in qualche modo legato e questo è sicuramente più forte di qualunque altra ed è diventato tutto naturale quando siete ritornati insieme tutta la quotidianità con vostro figlio non c'è mai stato un imbarazzo del passato di quei sette anni giusto? no no è bellissimo cioè è più unico che raro sono molto d'accordo con te ritorniamo alla carriera 90 Milano poi dopo ci sono c'è Barcellona ah no sono le Olimpiadi quindi arriviamo alle Olimpiadi di Barcellona perché poi avete bravo fatto tante altre cose prima che tu ti ritirassi nel 98 tu hai nominato il Dream Team anche voi eravate il Dream Team però è questa cosa il Dream Team è nato con questi mega super campioni dell'NBA Magic Johnson Charles Barclay Larry Bird che decidono sai cosa andiamo a vincere l'Oro Olimpico a Barcellona non stavano a Villaggio Olimpico stavano negli alberghi giocavano a golf al mattino al pomeriggio rifilavano 60 punti a qualunque squadra il vero Dream Team che ha stravinto ma sì facciamo così l'Italia è Dream Team perché? perché ha vinto l'Europeo e il Mondiale la World League tutte queste cose qua arriviamo lì lo squadrone destinato alla vittoria finale nei quarti di finale Italia Olanda quinto set ultimo punto fanno punto gli orandesi loro vanno avanti e noi siamo eliminati e il quarto di finale che è un fallimento dolorosissimo e lì lì è fatica è fatica perché è il torneo più importante è la cosa a cui tenevi di più è un processo che era partito con tante buone intenzioni e lì sembrava un po' tutto finito anche se l'età del gruppo era media e quindi per tutti erano tornati a pensare alle prossime Olimpiadi quello che accade è che Velasco fa una scelta coraggiosa ed è quella di rinunciare ad Andrea Lucchetta che era il nostro capitano il giocatore più carismatico anche più popolare è un momento molto difficile da raccontare anche dopo molti anni perché le versioni di Velasco e di Lucchetta non coincidono il loro rapporto non è più tornato come prima Velasco dice che Laki dopo l'ultima partita aveva criticato apertamente e in pubblico un compagno di squadra questa cosa non può accadere in una squadra Lucchetta dice che invece Velasco temeva la sua personalità e quindi lo ha tagliato per altre ragioni non me la sento di dire che la verità sta nel mezzo perché non sono un fautore che la verità stia nel mezzo penso che Velasco avesse intuito che poteva tecnicamente fare a meno di Lucchetta che voleva dare un volto diverso alla nuova nazionale che per quattro anni era molto codificata in sei titolari in sei riserve molti ragazzi erano cresciuti e quindi voleva ripartire con un stile diverso con maggiore competizione con maggiori cambi io ero vicecapitano nei primi quattro anni sono rimasto per punizione vicecapitano anche nei secondi quattro anni perché ricordo che pubblicamente dissi che nessuno aveva il diritto di lasciare a casa Lucchetta neanche il nostro allenatore naturalmente era una stupidata l'ho scoperto anni dopo Velasco questa cosa me la fece notare mi criticò durissimamente e mi disse resti vicecapitano e capitano divenne Andrea Gardini e iniziò un nuovo quadriennio con l'obiettivo di tutti di provare a vincere il nostro grande oro olimpico che è il sogno di ogni pallavolista e di ogni atleta meno che non sia un tennista o sia un calciatore vi è mancato Lucchetta dopo questa decisione oltre a te e a tuoi compagni di viaggio oltre che di squadra? no e questo è il motivo per cui Andrea Lucchetta con noi non ha un rapporto facile perché in qualche modo lui si sente l'escluso si sente il tradito io non direi tradito però certamente noi siamo andati avanti abbiamo tirato avanti dritto per dritto continuando a fare ciò che abbiamo fatto massimo dell'impegno massima competizione massima onestà nella competizione reciproca gruppo allargato non solo sei giocatori titolari molti di più e la nazionale ha marciato veloce di nuovo l'europeo di nuovo il mondiale di nuovo il world league quindi si rivince praticamente tutto e si va ad Atlanta nel 96 e questa volta nei quarti di finale si schianta l'Argentina insieme ai finali vinciamo 3 a 0 con la Jugoslavia c'è ancora la Jugoslavia e in finale c'è di nuovo l'Olanda che questa volta vince al quinto set 18 a 16 wow allora tra quarto di finale e finale la differenza è che in finale ti porti a casa un argento anche se per anni quella medalla d'argento non era più un bel ricordo era più un oro perso che un argento vinto la finale non è una partita che ti taglia la gola come il quarto di finale la differenza è che un quarto di finale se lo perdi hai proprio fallito non c'è niente da salvare di un torneo per una squadra come la nostra che voleva vincere in una finale sei arrivato in fondo è doloroso perdere per due punti ci sono voluti un po' di anni per fare pace con quella medaglia d'argento e però per quanto mi riguarda è stata anche alla fine la decisione che non avrei avuto la forza le energie per restare altri quattro anni nazionale e pensare alle altre olimpiadi cosa invece che i miei compagni hanno fatto hanno continuato a restare nazionale hanno vinto il terzo mondiale hanno rivinto i gradi europei e sono arrivati all'altra olimpiade senza vincere loro ma ci hanno provato per la terza volta consecutiva io credo che in quel momento in qualche modo avessi intuito che le mie energie direi forse anche le mie curiosità fuori dal campo di palavolo hanno un po' influenzato la mia disponibilità a restare concentrato e quindi ho giocato un paio di anni molto felici a macerata una squadra quindi hai finito la carriera lì ho finito a macerata a 33 anni due anni di cui ho un ottimo ricordo non abbiamo fatto grandi risultati era una squadra giovane che voleva consolidarsi lo ha fatto anche chiamando me che ero ancora un giocatore importante abbiamo fatto secondo me quello che s'aspettavano i dirigenti e anche i tifosi e poi a 33 anni ho smesso ho appeso le scarpe al chiodo non presto cioè nel senso hai cominciato tardi e hai smesso presto molto 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 presto perché volevi sempre dare il tuo 100 e sentivi che non lo avevi più sì questa è la versione a cui faccio riferimento più spesso penso ci fosse ma è la verità direi di sì direi di sì se io ci penso direi di sì credo che ci fosse una grande dose di orgoglio e anche di superbia abituato ad essere un giocatore importante non sopportavo di giocare bene o meno di quanto avevi voluto secondo aspetto sapevo anche però per le buone abitudini acquisite in un gruppo meraviglioso che se vuoi provare a dare il meglio vi sei disposto ad essere totalmente votato a quello che fai sei disposto a stare in palestra tutto il tempo necessario a fare qualunque sforzo e pensare solo alla pallavolo se sì puoi provarci ma se non sei pronto a farlo vuol dire che non sei più adatto a quel ruolo quando prendi quella decisione pensi anche al passo dopo quello che avresti fatto dopo l'annuncio o no o dici prendi un momento sabbatico o farò l'allenatore rimango nell'ambiente cosa pensi? allora per me c'erano due step uno è a metà di quel campionato qui alla fine smetterò non avevo ancora deciso nel 98 98 bravissimo quindi gennaio 98 a metà campionato io sto giocando da far schifo e non mi piace sono dispiaciuto non mi piace che mi critichino queste cose qua e a un certo punto dico allora secondo me Zorro se tu a fine anno smetti hai sei mesi per dimostrare a te e agli altri che sei un grande giocatore sei mesi sono un tempo in cui si può fare qualunque cosa ti chiudi in una scatola e per sei mesi pensi solo a giocare a pallavolo succede? è successo è successo quindi chiudi bene cioè le energie a disposizione tutte nei prossimi sei mesi non esiste niente altro che giocare al massimo livello la performance sale di molto e io finisco un campionato contento di quello che ho fatto ma arrivano anche le offerte visto che hai giocato bene perché non continui e si trattava anche di molti soldi si trattava e se ti sei dovuto inventare fantasmi mettere paletti creare storie assurde vuol dire che non c'hai più quella capacità di rinnovare questa motivazione che è parte integrante di qualunque atleta che può stare ad altro livello e quindi mantieni fede al tuo pensiero che ti ha aiutato a dire smetto a giugno e mi sono dedicato ad altre cose è molto onesto rinunciare a dei soldi che ti propongono perché non sei tu a doverli mendicare ma qualcun altro vede un valore e te li propone e tu dici stop avevo detto tante volte nelle interviste che la cosa bellissima dello sport è che ti prometti di guadagnare e non stai proprio lavorando cioè fai quello che ti piace guadagni anche e che la cosa bellissima è che quando hai un po' di soldi puoi scegliere hai risparmiato i soldi che hai guadagnato in quegli anni? abbastanza sì dipende molto anche da quanti ne spendi naturalmente questa è la grande difficoltà quando tu guadagni dei soldi quasi sempre finisce all'interno di una fascia di consumo che dipende da tu di uno stile di vita certo io ho preso molti più soldi di quanti ne spendo semplicemente perché per questioni forse legate alla mia famiglia al mio essere un ex contadino queste cose qua trovo enorme soddisfazione nel sapere che comunque posso togliermi un sacco di sfizi ma poi non sono nello yacht non sono niente di particolare ho una bellissima casa in cui vivo a Milano mi piace molto quello che posso fare però sono molti più soldi che ho preso di quelli che ho speso e quindi questa cosa mi rende molto tranquillo e direi soprattutto libero e quindi nel 98 che cosa fai? nel 98 essendo il primo di quella generazione che smette di fatto mi ritrovo una specie di prateria totalmente non presidiata nel mondo della comunicazione nel mondo degli eventi e quindi mi chiama la Rai per commentare e inizia un mondo che io non avevo immaginato per la verità come non avevo progettato però mi sono trovato con questo spazio ricchissimo e l'hai colto? l'ho colto anche se la cosa che mi piaceva di più era lavorare con Cataclò io per sette anni ho fatto il produttore il light designer dal 98? dal 98 cioè hai fatto un mestiere che non avevi mai fatto? io ho fatto l'ultima partita credo a inizio di giugno il giorno dopo ero a Milano con il Volvo caricato con gli attrezzi per andare in Francia all'Espas Chiron in Place d'Italie durante il mondiale di calcio in cui Cataclò ho fatto un mese di tournée io mi sono occupato quindi della produzione di Cataclò del disegno luci ma chi te l'ha insegnato questo mestiere? l'ho visto fare i primi spettacoli cioè mentre giocavi comunque mentre giocavo seguivo la compagnia di Cataclò e ho visto cioè perché per star vicino a tua moglie quando potevo andavo a vedere stare a teatro era la cosa più eccitante che mi capitasse montare le quinte cablare i proiettori e lavorare con la Strandlight che era la prima console che ho usato in vita mia e fare i montaggi era eccitazione nello stato puro e quindi pur essendo uno scarsissimo light designer per un po' di anni ho garantito a Giulia quell'equilibrio tra uno scarso light designer che conosceva lo spettacolo e quindi con effetti anche piuttosto semplici proseguiva perché non c'erano i soldi per potersi garantire un grande light designer e quindi io ho occupato questo spazio intermedio perché loro erano ancora più o meno agli albori agli inizi stavano crescendo e il teatro come tu ben sai se va bene va in pari ma deve andare molto bene stavano esplodendo gli eventi aziendali le convention e quelle sono pagate molto molto meglio quindi Cataclore in realtà in quegli anni fino al 2000 più o meno ha potuto contare su enormi introiti da parte di eventi aziendali che vengono rinvestiti totalmente negli spettacoli per avere una compagnia stabile per lavorare sulle idee coreografiche di Giulia e io per sette anni ho fatto questo quindi girando quei furgoni montando smontando d'inverno d'estate con enorme gioia a tal punto che ero così preso da questa cosa che considero anche una bella cosa che Leo Turini forse non lo conosci è un giornalista molto noto in Italia lui si occupa di Formula 1 e lui era a Parigi per il Mondiale 98 di calcio lo invitai all'Espas Chiron a vedere lo spettacolo e gli dici ti piace ho visto cosa sto facendo adesso e lui scrisse guardate come si è ridotto il grande zorro fa il lucifero scherzando un po' ironicamente però tale era questa mia convinzione che neanche immaginavo che potesse essere considerata quasi una downgrade e però furono anni fantastici per quanto tempo lo fai? per sette anni perché poi nel 2004 in realtà venne la separazione con Giulia anche nel lavoro e anche sì devo dire che anche il lavoro che non ho nominato prima forse è una piccola componente della nostra separazione ti avete mischiato tutto sì un po' troppo essendo entrambi sportivi Giulia non è banalmente competitiva come lo sono io però comunque non è neanche è una donna di grande personalità e quindi anche in quel lavoro l'idea era Giulia è la coreografa Giulia non solo ha il diritto ha il dovere di avere il controllo dell'aspetto artistico di quella compagnia e io avrei dovuto essere un assistente un collaboratore cosa che faccio malino ok quindi io penso che questa cosa abbia in qualche modo aumentato quelle che sono comunque le complessità anche solo relazionali di una coppia che sta insieme da tanto tempo che si muove che cresce l'hai riconosciuto col tempo questo? ne abbiamo parlato in modo molto esplicito di questo con Giulia ma anche adesso nonostante noi si faccia qualcosa insieme andremo in No Man tra poco tempo per Cataclou per Cataclou che adesso è diventato incredibile cioè è cresciuto tantissimo il brand lei è sempre il Deus Ex Machina lei si è e il boss si ha cambiato pelle mille volte devo dire che io trovo di enorme fascino per esempio vedere come siano cambiate le sue idee le sue modalità ma anche gli tessi ballerini all'inizio Cataclou erano ex sportivi ex ginnasti che andavano sul palcoscenico con delle qualità fisiche inimmaginabili qual è il problema di un ginnasta che è abituato ad eseguire un gesto e al teatro l'esecuzione dopo un po' non regge ok l'interpretazione l'idea di avere un piacere a elaborare il movimento non tanto a eseguirlo in modo perfetto quindi questa sorta di eccesso di dettaglio nel ginnasta emerge attenzione il ginnasta nasce e cresce pensando all'esecuzione e quindi la scelta di Giulia era lavorare con atleti ballerini atletici che però hanno questa idea dell'interpretazione della rielaborazione del gesto del sentimento e quindi paradossalmente è meglio avere qualche volta cosa non vera fino in fondo un gesto atletico un po' meno evoluto ma più interpretato rispetto a questa cosa che qualche volta potrebbe essere un po' troppo semplice se pensiamo al circo in alcuni casi qualcosa questo può essere un po' un piccolo esempio e quando voi in concomitanza diciamo la vostra pausa emotiva non lavorate più insieme tu che fai come riempi le tue giornate allora io in quegli anni avevo una collaborazione straordinaria con Sky Sport ho i diritti della Palavoro tantissime partite mi hanno aiutato loro moltissimo a crescere sul piano proprio giornalistico e gli ex atleti hanno sicuramente un enorme potenziale perché hanno vissuto in campo delle esperienze riuscire a raccontarle in un linguaggio che potrebbe essere quello giornalistico del telecronista o quello del commentatore nello studio o quello del giornalista che scrive sono operazioni che non vengono così immediatamente e quindi ricordo che all'inizio collaborai con la gazzetta e iniziai a scrivere pezzi non troppo lunghi però raccontavo aneddoti raccontavo le mie impressioni mi correggevano spesso perché essendo ancora un buon giocatore facevo molta fatica a criticare non ha giocato bene tendevo a focare sugli aspetti positivi quando io leggevo i giornali invece io guardavo qual era l'aggettivo a fianco del mio nome e se non era bello mi arrabbiavo col giornalista quindi da giornalista ragionavo da atleta il commentatore capire con chi è che fare lavori per Sky Sport lavori per la Rai per chi sta scrivendo cosa devi raccontare è meglio dire lungolinea o meglio dire parallela è meglio lungolinea perché si capisce di più lungolinea e quindi anche chi non conosce la pallavolo quando è che sei noioso la modularità della pallavolo che è battuta ricezione palleggio schiacciate quindi abbastanza ripetitivo permette che il telecronista racconti il play by play e il commentatore tecnico racconta invece quello che accade guarda il replay però potrebbe essere un po' noioso come incrociare le voci quali sono i toni e devo dire che a Sky che in quegli anni secondo me ha cambiato il modo in Italia di raccontare lo sport non solo la pallavolo ma anche il calcio è stata una fucina meravigliosa c'era una relazione giovanissima super motivata quindi quegli anni furono dedicati totalmente a sviluppare queste mie enormi curiosità io credo di essere quasi bulimico sotto questo aspetto sono malato di lettura tra l'altro con tutti i rischi che hanno gli autodidatti di pensare poi di essere competenti perché hanno letto un pezzo di un libro o un libro e sì questi sono i rischi che corro tutti i giorni però questa curiosità di ambienti che riguardano lo sport mi trovo di una di una bellezza e oltre al tuo arricchimento culturale e quotidiano oggi qual è il tuo business la formazione aziendale io ho tre grandi attività in questo momento ok una è la parte giornalistica la collaborazione con Sky ho collaborato con Dazone qui non è mai smesso quella branca lì l'hai sempre tenuta attiva no è successo che Sky non ha avuto sempre i diritti della pallavolo quindi la mia collaborazione si è spostata per un anno anche nel calcio per esempio un'esperienza molto bella anche devo dire molto sfilante perché poi in realtà nel giornalismo sportivo la competenza è una qualità richiesta perché Zorro parla di calcio per la verità io non parlavo di calcio avendo avuto una certa abilità nell'imparare ad usare alcuni device la lavagna tecnica sulla quale disegnare queste cose qua mi hanno chiesto di usarla anche nel calcio io facevo domande facevo domande ma scusa mi spieghi perché questo passa la parla di qua e non di là questa cosa ha funzionato un pochino però dopo un po' mi era sembrato che il mio ruolo fosse un po' forzato lì dentro quindi ho preferito non proseguire il processo con il calcio poi Sky mi ha sempre ritenuto però in fondo un partner potenziale quindi mi hanno richiamato per le Olimpiadi mi hanno richiamato con c'era pallavolo e quindi rimane un po' la mia casa ed è un bel mestiere mi piace moltissimo il secondo l'attività economicamente più rilevante secondo asset è la formazione aziendale nel senso che è un ambiente nel quale gli ex sportivi che hanno elaborato un po' questo racconto questa demonianza offrono abbastanza soldi senza che siano richieste ma come funziona esattamente la formazione aziendale nel senso che fai più sessioni o vai soltanto una volta e dai loro il mindset cioè si piega meno meglio perché non l'ho mai vissuto ai testimoni a sportivi chiedono principalmente la sessione unica negli ultimi anni visto che questa cosa viene ormai da decenni non è una novità l'abbiamo rubata agli Stati Uniti naturalmente rubata copiata agli Stati Uniti lo fai con un'agenzia che ti procura ti intermedia al lavoro sono un battitore libero sono un battitore libero anche su questo diciamo che quello che avviene è che i grandi temi di solito sono il team building la ricetta per vincere e la mia posizione è quella di essere molto critico infatti perché tu non sei quello della ricetta per vincere cioè non ami questi no infatti io chiedo questo gli dico perché la pallavolo può essere utile perché un giocatore e non un allenatore perché l'esperienza sportiva non è sovrapponibile a quella aziendale ci sono motivi certo che può essere utile ma solo a certe condizioni quindi la mia idea è provare ad essere sincero in quelle che sono le analogie e anche le molte differenze credo che le aziende in qualche modo lo apprezzino c'è una grande onestà in questo tendenzialmente però ti chiedono sempre un momento motivazionale e poi non si segue il percorso vero e proprio sono due le esperienze una è la testimonianza verbale quindi si racconta in altri casi invece usiamo una formazione esperienziale vuol dire che chi viene con noi interagisci fa delle esperienze o con la pallavolo o negli ultimi anni col teatro quindi l'idea è quella di fare in modo che poiché la nostra comunicazione spessissimo è una comunicazione diciamo così verbale usare la pallavolo come gioco o meglio ancora il teatro inteso come corpo può essere un'occasione per togliersi i panni che vestiamo molto frequentemente provare a lasciarsi andare con quello sforzo di fiducia faticosissimo e uscirne senza chiedersi cosa mi porto via di questa esperienza ma vedendo che tu per un attimo hai abitato un luogo che non frequenti e in questo mondo di eccessiva accelerazione di sfida verso l'esterno questi momenti di cambio di ritmo possono essere molto utili sono le due modalità una è molto impegnativa perché devi arrivare ad avere quella fiducia delle persone che arrivano chiaramente resistenti la testimonianza è un pochino più facile quello che provo a fare è se riesco a fare in modo di non entrare in quella testimonianza talvolta un po' retorica che è legata agli slogan della ricetta per vincere il segreto del successo e via dicendo volere potere e così via e c'è un terzo polmone di business o sono no c'è un terzo polmone che non è di business ma che è di cuore ed è la parte teatrale io da dieci anni dopo l'esperienza come tecnico ti nutre l'anima ti piace sei felice io recito ho visto qualcosa il primo è la leggenda per la volista volante che è uno spettacolo ispirato alla mia vita poi c'è avventuroso viaggio olimpia che è un mix tra l'altro con un paio di ballerini anche di Giulia Staccioli la mia compagnia di viaggio è sempre Beatrice Visibelli che è questa attrice meravigliosa toscana e Nicola Zavagli che è il regista e l'autore e poi uno spettacolo fatto con Giulia correndo questo rischio che è Play Zen dove io faccio la parte di un vecchio sensei giapponese tra l'altro cieco che ha questi sei performer cataclò che sono i miei allievi indisciplinati e attraverso le coreografie quindi movimento è parte del racconto raccontiamo storie come l'allenamento come la voglia di stare concentrati quant'altro in modo è uno spettacolo prestato per i ragazzi per le scuole per le scuole superiori per la verità però devo dire che questa parte qui di una trasformazione di concetti che ho sentito miei in ambito competitivo trasformarli nel teatro mi piace da morire non è un business chiaramente ma il cuore lo riempie visto che le persone che ascoltano il mio podcast attraverso la storia di qualcuno portano sempre a casa una grande motivazione il mindset la mentalità per cercare di raggiungere degli obiettivi che magari avevano accantonato o non si sentivano più in grado di poter raggiungere un grande metodo che ho trovato su di me e a volte andare dalle persone e chiedere loro persone che sono molto vicine a me perché è una domanda molto facile ma molto imbarazzante e chiedo alle persone quali pensi che siano i miei punti di forza e i miei punti deboli le mie qualità i miei difetti quindi dimmelo sinceramente e la prima volta che questo accadde tre anni fa è stato per me illuminante perché non mi ero reso conto né della tabella di destra né di quella di sinistra perché sei come uno struzzo no? c'è tutti i giorni la testa sotto terra e continui a fare le tue cose quando mi ha spiegato mi ha dato i titoli mi ha mostrato cose e ho chiesto a lui degli esempi per riconoscerle bene mi ha fatto migliorare enormemente e quindi ti vorrei chiedere su te stesso hai mai fatto un lavoro del genere o chiesto a qualcun altro realmente quali erano i tuoi punti di forza o comunque le tue qualità e soprattutto per migliorare i tuoi difetti? dire sì è un po' presuntuoso dire parzialmente sì è la verità l'ho fatto nel periodo della separazione è chiaro che appunto dici cosa è successo cosa sta accadendo di chi è la colpa c'è una colpa e quindi mi ritrovai a frequentare ambienti per me molto belli come alcuni monasteri buddhisti non sono buddista ma trovo che quell'approccio di grande speculazione anche filosofica sia particolarmente bello affascinante devo dire che c'è una sorta di benvenuta criptonite in Giulia e Numa mia moglie e mio figlio che essendo i migliori conoscitori di me stesso hanno anche questo piacere proprio per amore ai miei confronti di limitare le mie tendenze io sono ipercompetitivo sono quasi sempre quasi su tutto tendo ad appesantire un pochino l'atmosfera perché mi piace essere saccente mostrare le mie cose quindi con loro capita spesso che hanno questa capacità di smontarmi in zero secondo quelle cose che mi ritrovo a fare qualche volta anche per questioni professionali mi capita più spesso di dover rispondere alle domande che mi fanno i giornalisti gli appassionati gli sportivi e loro vogliono non avere dei dubbi vogliono sentirsi dire le cose che gli fanno piacere e quindi in qualche modo è come se capita anche a te credo ti costruisci quella cartolina la usi e quindi sì alcuni amici e Giulia e Numa sono quelli che mi aiutano sempre a ricordare quali sono i miei errori che sono sempre dell'azionatura eccesso di competitività desiderio di scienza di mostrare la mia intelligenza ma questo è legato anche al mondo sportivo credo essendo spesso legato al fatto che gli sportivi non sono particolarmente intelligenti qualunque occasione per dire ho letto questo libro c'è quella citazione viene fuori subito perché è come se volessi confermare che io sono loco adesso riesci a trattenerti e a elaborare questa voglia in modo diverso o no? vorrei dirvi sì ma non credo di farlo più di tanto e credo anche che a volte il motivo sia legato al fatto che non so se tu ci crederai ma ogni volta che comunque uno sportivo e io sono un ex sportivo viene chiamato se cita un libro o se fa un pensiero che sia un pochino non lineare viene considerata una specie di singolare situazione che accade talvolta e quindi mi rendo conto che qualche volta quando faccio degli interventi che sono proprio pensati dire a loro guardate se vi capita questo libro è qualcosa che anche professionalmente può essere utile che va però anche lungo il mio desiderio di dire guardate che io li ho letti questi libri che le so queste cose che non sono il tipico sportivo ignorantone e quant'altro vorrei condividere con te intanto ti chiedo anche la tua opinione perché ho già detto un po' di volte che non sono un difensore della verità sta nel mezzo io quasi sempre non posso fare altro che ragionare per estremizzazioni per contraposizioni e quindi facciamo l'esempio della competizione competizione perché in fondo sono nato così mi hanno allenato e mi hanno pagato per essere competitivo e quindi è chiaro che quel tema lì l'ho praticato a fondo e a lungo e sono molto legato alle mie identità competitiva e quindi l'idea è caro Zorro tu non corri il rischio di non essere competitivo corri il rischio solo di essere troppo competitivo allora l'ipotesi è un po' questa se noi immaginassimo una specie di comportamento che passa da un eccesso all'altro l'eccesso di competizione o la mancanza di competizione se noi riuscissimo a capire quali sono grosso modo i settori che pratichiamo più frequentemente quindi io sono sicuramente spostato verso l'eccesso di competizione non so quanto ma verso l'eccesso di competizione quindi per te caro Andrea qualunque momento per diluire quella voglia di dimostrare che tu sei più bravo di tirare gli occhi di dire sono bravo vero che sono bravo ogni volta che fai questo lascialo andare diluiscilo un pochino tanto non corre il rischio di cadere nella troppa poca competizione se qualcuno invece dovesse sentirsi in mancanza di competizione forse ti fai bene ogni tanto prova a spingere però questa idea di una sorta di pendolo che ti aiuta ad andare in quella direzione che frequenti di meno è come se per me fosse un po' una bussola dei comportamenti che provo a mettere in atto posso darti un mio parere? certo te l'ho chiesto io credo che per non arrivare all'eccesso di dimostrare ciò che sei ti devi sentire di esserlo veramente e forse parlo per me in questo momento molte volte mi dicono ma perché quando parli con le persone racconti parti dall'inizio cioè come se tu non ci credessi veramente di esserlo e quindi fai questa ringa pesante lunga ogni volta riparti da lì perché mi sono reso conto di non crederci veramente di essere quello che raccontavo di essere e quando realmente me ne sono convinto non ho più avuto bisogno di farlo condivido anche se credo sia un tema un po' diverso da quello che ti ho accennato attenzione non sto dicendo quello che tu dici è esattamente quello che anch'io provo cioè il mio bisogno di riconfermare sempre e di consolidare sono qui perché sono un ex sportivo ho fatto questo quell'altro proprio nel dubbio ti sto dicendo chi sono e questo è il comportamento che in alcuni casi è eccessivo e inutile in altri casi è richiesto potrebbe essere anche troppo come dire a volte presuntuoso dare per scontato che gli altri devono sapere chi sei o chi non sei però se è un ambiente dove ti chiamano come personaggio quindi come persona che attraverso la sua personalità ha fatto delle cose lo sanno già quindi puoi raccontargli come ci sei riuscito se stai dando loro uno strumento non mettere il tuo palmarès per ricordarglielo sono cose molto diverse assolutamente assolutamente e su questo intendevo questo su questo totale condivisione l'altra prova a riconfigurarla un pochino è come se ogni volta che ho la sensazione di avere un sacco di buone ragioni per darmi ragioni sia segnalare del pericolo siccome i miei riflessi vanno sempre in un certo modo vanno sempre col desiderio di essere confermato e la mia tendenza è ad avere una certa stima di me stesso quindi l'idea occhio Andrea perché quando ti senti in quel momento in cui dici sì ho elaborato un bel pensiero l'ho fatto è bella questa cosa qui lì c'è il rischio più grande perché quasi sempre a me capita di sbagliare con questo modello qui che è un po' quello competitivo quello ecco perché stavo postulando il fatto di andare in direzione opposta per trovare l'equilibrio poi per capire per sperimentare l'equilibrio non so neanche se valga la pena pensare tanto all'equilibrio perché poi l'equilibrio è qualcosa che cambia in continuazione sì ma poi questo balance non lo sai generare da solo e appunto sentendo il profumo dell'opposto che poi si come dire si va a configurare in maniera estremamente autonoma mi piace il profumo dell'opposto mi piace molto ti faccio l'ultima domanda dell'intervista hai paura della morte? direi di no ma la morte di mio padre la morte di mia socia non molto tempo fa hanno aperto porte molto dolorose c'è una reazione che ho metto in atto quasi sempre ed è quella di chiudere di chiudere una volta uno psicologo mi disse che è come se io non avessi nessuna capacità per modulare le mie emozioni ma che ho solo una sala cinesca accesa o spenta anche qui do la colpa allo sport per me giocare a pallavolo ha significato tenere sotto controllo le emozioni perché l'eccesso di eccitazione non è portatore di lucidità l'eccesso di depressione non è portatore di lucidità prova a usare un compressore emotivo per stare in quello stato che io ritenevo essere il migliore possibile questo cosa fa che tu chiudi sopra non ci deve essere e sotto neanche è come se le emozioni diventassero dei nemici in alcuni casi è molto utile è molto efficace ma in un campo di pallavolo nelle relazioni non è utile attivare il compressore emotivo in continuazione non è utile aver paura di quell'emozione nel caso della morte che è la domanda quella principale io faccio così o da lontano e quindi è come se non mi riguardasse in alcuni casi quando è così vicina quando è così intima è stato dolcemente caloroso con mio padre dolcemente caloroso molto doloroso e e poi non so dire se questo significa che non ho paura della morte ma significa che la morte che ho incontrato è quella delle persone vicine e mi termoli grazie di tutto grazie Andrea grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te